In occasione che la Comunità Internazionale ha celebrato ieri la Giornata Mondiale del Rifugiato, lunedì scorso ho voluto incontrare una rappresentanza di rifugiati che sono ospitati dalle parrocchie e dagli istituti religiosi romani. Vorrei cogliere quest'occasione della giornata di ieri per esprimere il mio sincero apprezzamento per la campagna per la nuova legge migratoria Ero Estraniero, l'umanità che fa bene, la quale gode del sostegno ufficiale di Caritas Italiana, Fondazione Migrantes e altre organizzazioni cattoliche Grazie 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 Grazie